Buongiorno a tutti e bentornati anche questa mattina qui su Daily Cogito, io sono sempre Eric Dufer e prima di lasciarvi al Dufer e Boldrin per ascoltare l'interessantissima chiacchierata fatta col buon Michele a riguardo di Ayn Rand e non solo, vorrei ricordare una cosa importante. È appena uscito il nuovo numero della mia rivista di filosofia e cultura pop, Filosofarsogood, e il tema di questo numero è il suicidio. E potreste dire, Rick, che allegria! Ebbene sì, perché il suicidio in questo caso, nei 17 articoli che fanno parte di questa bellezza, è stato sviscerato, analizzato, argomentato in correlazione a concetti come quello di libertà, di felicità, di vita e non solo di depressione, di disastro, di morte, di cataclisma. Quindi sono certo che leggendo questo numero della rivista ne uscirete arricchiti e per accaparrarvelo, beh, c'è il link qui sotto per il download digitale, costa solo 3 euro e questi soldi servono per sostenere il lavoro fantastico della redazione che fra editing, impaginazione, grafica, lettura e quant'altro ci ha messo il sangue, il cervello e tutto quanto il corpo. Quindi premiate questo lavoro, non ve ne pentirete. Ma adesso veniamo a noi. Vi lascio al Dufer e Boldrin di oggi, parliamo di Ayn Rand, di puzzle concettuali, di scienze cognitive, di Steven Pinker e tante altre cose. Buon ascolto e buon fine settimana a tutti voi. Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente. Mike, Mike, ma tu lo sai chi è John Galt? Chi è John Galt? Oggi parliamo finalmente di Ayn Rand. Oggi parliamo finalmente di Ayn Rand. Non volevo, non vedevo l'ora. Ciao, ciao Mike. Ciao, come stai? Ciao, carissimo. Come va? Che piacere vederti. Bene, bene. Sarà divertentissimo oggi. Sarà divertentissimo oggi. È perché ieri... Cosa vuoi parlare oggi? Adesso fai il finto tonto, però ieri discutendo di qual era l'argomento, Michele mi fa, ma dai ma secondo me, secondo me è bene se parliamo di Ayn Rand, della sua filosofia. Non è vero. Adesso ve lo svelo a voi ascoltatori. Dai, avanti. C'è una cosa di cui non vuol parlare, che è tutta una mia teoria su perché si diventa lazy e l'umanità sta diventando sempre più lazy per effetto del progresso tecnologico. E forse è progresso, forse è emancipazione, ma sono sicuro che ha degli effetti di lungo periodo. Ma siccome ha deciso che non gli interessa, vuole sempre parlare dell'obiettivismo, dell'oggettivismo. Ma no, non è vero che non mi interessa. In realtà, è vero, gliel'ho detto io, perché io non riesco a capire, perché delle persone anche apparentemente intelligenti... Che stronzo! Che stronzo! Ok, cancela! Ma no, non cancello! Così, così di... Possono trovare interessanti le stronzate di questa pazza invasata che voleva venderle. Libri già è riuscita, ma... Allora, io non posso che risponderti con una citazione. Pensa davvero lei che abbiamo creato quelle leggi perché venissero rispettate? Noi vogliamo che vengano in frate. Si metta in testa che lei non si trova di contro a un gruppo di ragazzini. E allora capirà che questi non sono i tempi dei bei gesti. Noi miravamo al potere. Voi eravate degli attaccabrighe, ma sapevamo come domarvi. Perciò avreste fatto meglio a stare attenti. Non c'è modo di governare degli uomini innocenti. L'unica forza di cui dispone un governo è di dare stangate ai criminali. Ebbene, quando non ci sono abbastanza criminali, se ne creano. Si dichiarano crimini, tante cose che diventa impossibile per un uomo vivere senza infrangere una legge. E via dicendo. Ovviamente questa è una citazione da L'uomo che apparteneva alla Terra, che è il terzo testo della rivolta di Atlante. Pensatevi poi, la rivolta di Atlante, l'uomo che apparteneva alla Terra. Anche solo i titoli ti fanno capire che è una roba, è la filosofia del videogioco. Smettila Mike, smettila. Di chi vorrei ma non posso. Smettila, smettila. Vabbè, superuomini, grandi donne, titani liberi, anarchismo. La domanda che hai posto è interessante. Cioè, cosa c'è in Ayn Rand? O perlomeno cosa io, almeno, perché non posso parlare per altri, l'ho trovato interessante nella Rand. Mi ricollego a un discorso che abbiamo fatto in realtà alcune altre volte nelle nostre chiacchierate. Spesso ci è capitato di dire che, per esempio, quando abbiamo parlato del gap cognitivo che un giorno diventerà un problema. Cioè, il fatto che un pensiero politico che si basa sui fatti, sulla scienza, quindi potremmo dire che, diciamo così, è frutto integrante di quella che è la cultura liberale, filosofica, mettiamola così, è difficile da diffondere. Cioè, è difficile perché tu ti troverai sempre a un certo punto. Fermati tutto, fermati tutto. Tutti i pensieri filosofici che io conosco e tutte le grandi teorie sostengono di basarsi sui fatti, sulla scienza. Peccato che decidono loro cosa siano i fatti e cosa sia la scienza. Beh, oddio, noi abbiamo anche una misurazione. Tu conosci uno, tu conosci una teoria, un grande sistema del mondo che dica, guardate, tutta questa roba che adesso vi racconto e vi propongo come regola di vita, perché poi questo vorrebbe essere la Ayn Rand, una regola completa di vita e morale, si basa su fantasie, seghe, immaginazioni mie, cose che non mai esistite e anche poca scienza. Tant'è, tendenzialmente amo contraddirne. L'idealismo tedesco. No, scherzo, scherzo. L'idealismo tedesco è assolutamente convinto e dichiara di fondarsi sui fatti. Era una battuta. Era una battuta. Vede spiriti a cavallo dalla mattina alla sera l'idealismo tedesco. Però noi abbiamo anche, aspetta, 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 a me piace quando vuoi fare l'avvocato del diavolo, però abbiamo anche, non abbiamo soltanto le dichiarazioni di chi vuole proporre un pensiero, abbiamo anche delle conseguenze misurabili, cioè nel senso basta, tu mi hai citato varie volte, Illuminismo adesso di Steven Pinker, lì c'è un libro che non ti dice il pensiero liberale vorrebbe basarsi o dichiara di basarsi su fatti, scienze, no ma lì ci sono anche delle conseguenze, cioè ti dice che i presupposti di quel tipo di pensiero hanno portato delle conseguenze ben precise, dimostrando di essere molto più corrispondente alla realtà. Il libro di Pinker, se voi ne parliamo anche di quello, ecco vedi, l'unico difetto, il difetto più grosso del testo di Pinker di tutti questi è che lui cerca di sostenere che tutto questo sia frutto di una grande visione filosofica eccetera, invece no, tutta la serie di grandi belle cose che racconta nel libro che ha due funzioni, uno è semplicemente smontare sulla base di fatti che non hanno bisogno di particolari teorie, certo non teorie filosofica, non teorie generali della vita dell'universo, sulla base di fatti smonta affermazioni e bufale sulla tragedia del mondo in cui viviamo, fondamentalmente la struttura del libro è per ogni argomento disfattista o di crollo, di crisi, di rovina, di fine dell'Occidente, di va tutto male, ecco una serie di fatti che dimostrano l'opposto, dopodiché vabbè a Steve gli piace, capisco anch'io, c'è anche una certa autocompiacimento dell'intellettuale, di vivere in una certa comunità di scienziati eccetera e quindi rivendica, guardate che sta roba, queste meraviglie, gli aerei che volano, le vite che si allungano, la qualità del riscaldamento, le comunicazioni che avete fra di voi eccetera 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 si deve in buona parte a scoperte scientifiche e quindi esiste una corrente di pensiero che lui legge essere quello illuminista liberale che motiva e spiega tutto questo, liberale come se un'altra, abbiamo già avuto una discussione liberale, questo lo dice Pinker, cioè nel senso Pinker lo dice chiaramente, ma io lo metto, siccome gli voglio bene, lo metto e non gli metto in bocca queste cose, ma sai voglio dire se fosse così Archimede che ci ha regalato la legge di Archimede, ma tanto per menzionarne uno avrebbe dovuto aspettare fino al 1770 per verificare cosa succede quando metti una tavolozza sull'altra, aspetta, aspetta, i tentativi di pensare scientificamente nella storia dell'umanità ci sono sempre stati, sono stati all'inizio estremamente difficoltosi perché si trovava, dopo un attimo ti racconto il mio modello del puzzle. Cioè è vero che Archimede ha avuto quelle intuizioni al di fuori di quello che è un contesto di quello che poi descrive Pinker, però è indubitabile che prima di quel contesto culturale c'era un Archimede ogni 500 anni, dopo quel contesto culturale abbiamo avuto un incredibile numero di persone che si sono trovate nelle condizioni di poter fare quello che Archimede faceva per genialità e hanno cominciato a farlo anche per condizioni sociali, economiche, politiche che prima non c'erano. Tu non potevi avere, tu non avresti mai potuto avere la spinta, diciamo così, positivista e scientifica dell'Ottocento nel 1100, non perché non mancassero i geni, ma perché mancava il contesto socio-culturale. Cioè quello che cerca di dire Pinker, a mio parere, che è molto molto condivisibile, è che il clima sociale, collettivo, che si è sviluppato e che si è sviluppato in seno a quel tipo di divisione del mondo che lui attribuisce all'illuminismo e al pensiero liberale, che lui non glielo metto in bocca, lo dice molto spesso nel libro, ecco, il contesto ha prodotto la possibilità di avere qualcosa che nel corso della storia non avremmo mai potuto avere dentro altri contesti. Questa cosa, secondo me, è abbastanza lampante. Poi a questo si aggiunge, attenzione, ci sono anche altri fattori, l'aumento della ricchezza che si è potuta avere si è avuta anche grazie alla scoperta dell'America, quindi ci sono anche stati dei fattori molto concreti che hanno permesso la diffusione di ricchezza, e vi dice no, però mi pare un po' forzato dire che non ci sia stato un contesto, anche culturale, che ha aiutato lo sviluppo di un certo tipo di discorso. Sai, il problema, i contesti culturali ovviamente favoriscono, ma il problema qui è quello dell'uovo e della gallina. Allora, anzitutto, non è vero per nulla che prima, che so, dall'enciclopedia io, scegli tu chi vuoi utilizzare, Voltaire, Kant, non so, quello che vuoi tu, prima di un certo periodo ce ne fossero ogni 500 anni, ce ne sono stati parecchi, parecchi di più, l'umanità aveva… Ma lascia che ti provi a fare questo modellino, un modellino che ho discusso svariate volte, io volevo anche scriverci un paper, perché visto che va di moda nella letteratura, a fare gli economisti scrivere questi modellini teorici che spiegano come si creano le idee, come avanza il progresso scientifico, io lo trovo abbastanza divertente, l'avevamo anche testato con David Funziona, poi, come sai, io mi annoio, non l'ho neanche scritto, ma è il modellino che io chiamo del puzzle, no? Allora, cos'è che vuole spiegare questa idea che molti hanno in mente? E cioè che se tu osservi la storia, come dire, scritta dell'umanità, no? O quella perlomeno che riusciamo a scrivere, e diciamo così dalla transizione neolitica più o meno 15 mila anni fa, da qualche parte fra tigri o frate, e poi qualche migliaia di anni dopo tra i due fiumi giusto qua sotto, se no a Pechino, e via andando, quelle che noi chiamiamo idee, innovazioni, progresso tecnologico, ho avuto una traiettoria un po' strana, no? All'inizio era praticamente molto chiaro, c'erano molto poche scoperte, tardavano, avevano 50 anni, 100 anni, 300 anni, 500, 1000, 2000, 5000, no? E con questo le condizioni materiali di vita delle persone si miglioravano, molto poco, poi c'erano dei crolli, poi c'erano dei periodi di stasi, no? E poi a un certo punto c'è una piccola accelerazione, che avviene quasi tutta in Europa, per la parte rilevante, dico quasi tutta perché in realtà c'era un pezzo di accelerazione che era avvenuto proprio qua dove sono ora, che però poi a un certo punto si è bloccata, no? Le scoperte della civiltà cinese. E altre piccole cose lì, ma insomma, la linea continua, obiettivamente, piaccia o meno a quelli che ritengono tutto questo una chiacchiera imperialista, colonialista, l'uomo bianco, piaccia o meno la linea grossa, continua, avviene. Bene, e questa linea è abbastanza piatta, a un certo punto comincia ad andare su e poi si drizza, no? Per cui uno ha l'impressione che gli ultimi, e qui dipende davvero dove cominci a contare, io tendo a contare dal 1500, quindi a mio avviso è un mezzo millennio che questa linea decisamente accelera. Allora, il mio modellino è il seguente, immagina che tu hai una stanza dove c'è una porta di entrata e una porta d'uscita e nella stanza hai un certo tempo che devi stare, che è la tua vita attesa, quindi le persone che entrano dietro l'altro sono le varie generazioni umane, no? Ogni 40-50 anni ne entra una nuova. Poi negli ultimi anni è aumentata la durata, ma questo è abbastanza poco rilevante, no? Quindi, in questo senso ci sono due cose, c'è un puzzle complicatissimo, tutto all'inizio, quando hai detto che non c'è neanche un pezzo, c'è una montagna di pezzettini della figura del puzzle, e tu sai che se riesci a mettere i pezzettini del puzzle nel loro posto giusto, dopo un po' mano a mano che costruisci, per ogni figura che costruisci ricevi un grande beneficio, ok? Diventi proprio contento. Dall'altro lato c'è una robetta da mangiare, semplice, semplice, non è che ti dia grande soddisfazione, però ti permette di sopravvivere. Allora, qual è il comportamento razionale delle persone che entrano in questa stanza? Il comportamento razionale delle persone che entrano in questa stanza all'inizio è dedicare un po' di tempo al puzzle, vedere se hanno un colpo di culo prendendo un po' di pezzi a caso, perché non hanno nessuna traccia, che funzionano e ricevono un beneficio, ma se dopo un po' di tempo non lo trovano, vanno a mangiare, se non muoiono, e il loro tempo nella stanza è sprecato. I primi pezzi del puzzle finiscono dentro ovviamente a caso, e con bassissime probabilità. E quindi avrai dei periodi lunghissimi all'inizio, in cui dedichi relativamente poco sforzo al puzzle perché capisci che la probabilità di guadagnarci qualcosa è bassissima, e dedichi più tempo a fare queste cose animali, di mangiare e pascolare, che ne so parlare con la mucca che c'è nella stanza. Giusto? Mano a mano che una serie di colpi di fortuna a distanza di decine, a volte di centinaia di generazioni, mettono dei pezzi al loro posto, il tuo incentivo a provare a pensarci, a guardare, a fare uno sforzo razionale, cresce. Quando un numero sufficiente di pezzi comincia ad essere sul loro posto, si accelera. Infatti a un certo punto c'è l'accelerazione esponenziale. Ecco, è questa roba qua. Il fatto che nel Settecento qualcuno si sia messo a teorizzare tutte queste robe e la ragione, è una conseguenza della meraviglia che hanno avuto nel rendersi conto che negli ultimi duecento anni, centocinquantane, avevano capito una infinità di cose rispetto a quelle che gli sembrava di avessero capito prima. Rendendosi poco conto, qualcuno l'aveva capito, chi era quello dei giganti, i nani sulla spalle dei giganti, non mi ricordo più. Era... non mi ricordo più. Ti ricordi sta roba? C'era uno che aveva questa immagine. Sì, non mi ricordo però chi è, non mi ricordo chi è proprio. Vabbè, non mi ricordo. Uno giusto quel periodo lì. Giusto quel periodo lì. Non importa. Ecco, secondo me è questo, capisci? Eh, ma... sai... No, questa... Allora, è molto interessante. Tutta sta roba che dietro c'è una teoria filosofica, no? È una razionalizzazione esposta. Ecco, allora, è molto interessante questa cosa. C'è un però, c'è un però, allora ti pongo un'obiezione al tuo modello del puzzle. Non ci sono soltanto persone che entrano per costruire il puzzle. Nel corso della storia ci sono state tante persone che sono entrate per sedercisi sul puzzle, per dare calci al puzzle, oppure per... Ma certo. ecco, allora, ecco, vedi, è lì che subentra... C'è varietà di esseri umani, c'è varietà di esseri umani, c'è chi entra e dà una certa fiducia nella sua... E c'è varietà... E c'è chi pensa che invece buttando... Eh, ma ho capito, ma c'è varietà quindi anche di visioni del mondo. Cioè nel senso, io, attenzione, capisco il tuo discorso, non c'è necessariamente un'ideologia, una corrente filosofica dietro che permette questa cosa, però c'è anche quella, c'è anche una visione del mondo che non è condivisa da tutti e alcuni con quel puzzle vorrebbero farci delle cose e altri vorrebbero farci altre cose. Cioè nel senso, è lì che si inserisce, secondo me, almeno il fascino, non l'importanza filosofica, perché poi, ripeto, io non la considero neanche una filosofa, la Rand. Però l'importanza, l'importanza... Facciamo un passo avanti. Il fascino filosofico, cioè, lei ha scritto un libro di filosofia, che è un libretto, che è la virtù dell'egoismo... Vabbè, questa non la so, questa non la so, questa non la so. Sì, non mi ricordo, come si chiama, un tal Pei... Non sapevo che ci fosse sto sospetto che... Un tal Ple... Non mi ricordo, Leon ha qualcosa, un attimo, non mi ricordo come cazzo. Al netto che io, al netto che io l'oggettivismo non lo considero una corrente filosofica, l'importanza della Rand, secondo me almeno... Eh, ma allora cosa ci trovi in questa strana affermazione? Eh, ti sto dicendo. Ovviamente sono d'accordo, uno dei by-prodotti della storia dell'umanità, siccome alcuni, nel tentativo, perché il pensare, per quanto la filosofia continentale, specialmente quella italiana che quando si concentra sugli antichi non riesce a capirlo, la prima domanda che chiunque abbia filosofato sia a fare è com'è che funziona sta roba? Ok? Erano proprio domande sul puzzle. Vendevano sta roba, meravigliosa, diciamo come cazzo funziona sta roba, no? Quindi ovviamente all'inizio c'è nessuna ragione che il tuo cervello sia calibrato e riuscire a vedere quelle leggi che oggi pensiamo funzionano e chissà a che livello siamo, cioè ci pensiamo funzionano molto pragmaticamente fino ad adesso alcune di esse hanno funzionato stupendamente altre meno, Quindi è ovvio che poi la gente si creava delle teorie su cos'era il puzzle, su che regole seguiva, quale metodologia volevo utilizzare per accogliere i pezzetti e che su questo essendoci ben poche verifiche essendo sempre questo prato accanto con la mucca alle cose triviali da mangiare davano spiegazioni le più svariate. Va benissimo, quindi non è che sto contestando questo, la mia come dire sorpresa avendo giucchiato un po' le teorie di questa signora è perché uno ci perde c'è tutto questo fascino in un certo mondo fondamentalmente è una specie di variante è una specie di francamente è una teorica del super uomo svincolato da ogni relazione sociale non è molto cioè è abbastanza cioè gli stessi che hanno visto in Nietzsche prodromi del nazismo potrebbero tranquillamente vederlo nella renda francamente ma infatti è stata definita in molti modi mi sembra una roba da sciocchezze da palestrati allora e torno la morale guai a essere altruisti perché essere altruisti Mike fammi parlare ti prego fammi dire quello che voglio dire sulla renda ci ho provato quattro volte allora 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 lo ribadisco la renda da un punto di vista di valenza filosofica non ha granché interesse ripeto poi che l'abbia scritto o meno lei la virtù dell'egoismo è un bel libretto cioè nel senso dice delle cose che sono mai interessanti discutibili e alcune condivisibili però il punto fondamentale è a mio parere che la renda è stata l'unica autrice del almeno del novecento che ha cercato di creare quella che io potrei tranquillamente definire un'epica del pensiero liberale ora attenzione attenzione in quel puzzle ok io so che tu sei un economista scienziato però sai molto meglio di me perché sei appassionato anche di poesie e queste cose che l'epica che la poesia sono parte di quel puzzle ovvero per avvicinare le persone a un certo tipo anche di comprensione del mondo non basta soltanto la disquisizione filosofica dura e pura non bastano soltanto le scienze e via dicendo sono servite anche in passato la poesia la letteratura perché anche quelle costruiscono un certo tipo di visione del mondo e spingono le persone e ora se io vado a guardare nel novecento l'epica marxista è stata fortissimamente presente cioè il marxismo ha letteralmente costruito un'epica mi viene in mente per esempio negli Stati Uniti tutto il romanzo di John Steinbeck che è una epica di stampo marxista mi vengono in mente tant'anni potrei citare potrei citare decine tu davvero leggi Steinbeck in quella maniera lì eh sì certo e io lo amo attenzione io amo Steinbeck non sto criticando io amo i romanzi ma uomini è topi io non ci ho mai trovato il marxismo è un furore cioè nel senso è un nel senso tutto quello tutta la narrazione che si inserisce nella crisi del 29 è un'immagine ripeto sto facendo una semplificazione sto dicendo che quel tipo di narrazione si è inserita in una visione del mondo che è contrario rispetto a quella contrario o comunque discorde rispetto alla visione del mondo di cui poi la renda si è fatta portavoce e se io vado a guardare nel novecento il pensiero invece con tutte le i crismi che possiamo metterci intorno distingue il pensiero liberale del novecento ha mancato letteralmente quel tipo di linguaggio cioè nel senso è un pensiero che si è sviluppato tantissimo nell'ambito delle scienze che si è sviluppato tantissimo nell'ambito della politica anche in alcune correnti filosofiche però la letteratura così come l'arte di fatto è stata quasi abbandonata da quel pensiero ecco allora lì che si inserisce la renda perché la renda è una cosa così dopata tu hai detto giustamente da palestrati perché è così dopata perché in effetti è stata l'unica autrice di letteratura che ha tentato di costruire un'epica e attenzione l'epica come qualsiasi epica non va presa alla lettera cioè nel senso il suo tentativo non è quello di descrivere un mondo reale e in effetti basta leggere la rivolta di Atlante per capire che i suoi personaggi sono delle macchiette sono delle rappresentazioni sono quelli che Deleuze avrebbe chiamato personaggi concettuali cioè sono tentativi di incarnare un concetto e trasmetterlo attraverso una narrazione e a mio parere il fascino che deriva sta proprio tutto lì cioè il fatto dell'estremizzazione di un pensiero attraverso la letteratura permette di produrre una sensibilità nei confronti di certi concetti che la sola filosofia e la sola scienza non potrebbero trasmettere ciò risulta antipatico a chi da questi libri vorrebbe vorrebbe fatti e logica mettiamola così però può risultare affascinante da chi cerca al di là di quelli che possono essere i fatti la logica le scienze e via dicendo un sostegno narrativo un sostegno di visione del libertarismo del liberalismo chiamalo come vuoi e secondo me la REND gioca questo fascino per questo motivo poi ovvio che come qualsiasi autore può essere presa alla lettera e allora lì vabbè lì c'è nel senso è come usare un martello per grattarti i testicoli c'è nel senso non è lo strumento adatto la REND è uno strumento utile per dare un sostegno a un certo tipo di visione che poi va assolutamente criticata anche per esempio nella Fontana nella Fountain nell'altro romanzo suo usa il suo pensiero anche per giustificare quell'idea secondo cui quando una donna viene stuprata in qualche modo è perché l'ha desiderato ok quindi ha detto delle puttanate stellari questa qua ma è tutto coerente se a mio avviso io adesso ti ho lasciato parlare però no no non è coerente non offenderti ma assolutamente coerente è totalmente coerente perché la signora poi aveva c'era una reazionaria ridicola cioè era affetta da 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 piccolo borghesi della solita russa scappata in America assolutamente ridicole di un moralismo come dire patetico e francamente dal punto di vista della qualità cioè Steinbeck non è Steinbeck vabbè ha avuto un grande successo forse non è il mio scrittore preferito non ci ho mai visto l'angolo marxista a me ho visto proprio una forma di realismo di tutti questi qua incazzati tutto quel periodo da Dos Passos poi che era quello che aveva iniziato a scrivere un rivisto di marxista io in Costoro ma per carità uno può dare una interpretazione nella grande depressione ma insomma il livello letterario di caratterizzazione di personaggi anche proprio la capacità di scrivere in inglese di Steinbeck o Faulkner o o Dos Passos sul confronto della Rende non esiste neanche c'è la Rende è una roba da videogiochi ma su questo non c'è dubbio è gente intellettualmente debole mi stai dicendo la gente intellettualmente debole se cerco di spiegare in maniera fumettistica che forse gli individui hanno la loro responsabilità e se la devono assumere gliela devo mettere in questa maniera appunto fumettistica che diventano tutti no 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 non è che devo mettergliela così no non è che devo mettergliela così no non è che devo mettergliela così è che è l'unica che l'ha fatto cioè trovami un altro autore di letteratura ma grazie a Dio ma se fosse stato nessuno a farlo sarebbe stato meglio non è che tutte le cacche che vengono fatte siano un pregio voglio dire cioè non so come dire adesso cercherò di farmi venire in mente qualcosa di ridicolo che sia stato fatto e l'ha fatto uno solo non è che la cattiva cultura diventi migliore perché l'ha fatta uno solo io la pagina la pagina che ti ho letto qui dell'uomo che apparteniva al terra non è cattiva cultura cioè nel senso è discutibile il modo è discutibile lo stile poi le idee che vengono espresse in una buona parte di questi libri non sono idee così peregrine Mike secondo me l'hai letto che avevi 17 anni vivevi in un ambiente no 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 l'ho riletto poi ti dico secondo me cioè nel senso non è io trovo che tu abbia una demonizzazione della REND che è tanto esagerata quanto quella di chi dice è la REND la più grande autrice contemporanea no 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 alcuna demonizzazione è che siccome persone intelligenti ripeto come vi ho visto toltola apparentemente me la tirano fuori come se fosse rilevante io mi sorprendo cioè è come se uno mi dicesse ma Topolino Topolino è un grande contributo alla letteratura europea cioè io capisco ha preso in tanti su Topolino per carità ci sta fine anche io guardo Tex Willer sia chiaro che infatti è molto randiano Tex Willer è così indipendente vive per se stesso non ha paura di niente insomma forse è altruista ma altruista perché fondamentalmente perché gli piace perché lui vuole vivere avventuroso non è altruista perché infatti uccide con una gratuità Michele ti dico ti dico una cosa ti dico una cosa e forse questo è l'altro tassello che mi porta a dire che non è così tutto da buttare in un'epoca in cui siamo circondati dai galimberti che continuano ad andare in televisione a dire alla gente che siamo tutti coglioni impotenti che non facciamo sesso che non abbiamo valore che siamo dispersi nel mondo senza nessun senso ogni tanto ogni tanto qualche sportellata randiana a dire smettila anzi dirgli ok boomer facciamolo noi no guarda che su questo ma facciamolo noi sì ma certo facciamolo noi ma non serve io credo dell'opinione sarà anche sarà anche infinitamente snob se vuoi o quello che io credo che l'alternativa appunto a personaggi come questo terribile che hai appena menzionato no galimberti il plagiaro tremendo no la gente che ci ascolta lo sa che Umberto Galimberti è uno che plagia e arriva a plagiare perfino se stesso ma si discute si discute si discute molto no no si discutono c'è non molti da discutere c'è un fatto obiettivo si prendono le pagine sono uguali non c'è neanche da discutere quando uno c'ha le pagine praticamente uguali o anche senza praticamente per pagine 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 capoversi 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 non succede per caso la giustificazione di beh ho pensieri simili e mi ricorrono cioè chiunque abbia scritto sa benissimo che non ti ricorrono sì per carità se quello è l'unità di misura ma io credo che invece sia il caso di porsi sempre l'obiettivo di proporre un'alternativa superiore non di dire beh vabbè a fronte di un mondo dove Umberto Galimberti ho visto gode tuttora è una cosa che mi stupisce perché io me lo ricordo chiacchierone inutile 40 anni fa quando sono andato via e me lo ritrovo oggi cosa avrà 80 anni se Luciano Capone mi ha detto la verità domani beh no in realtà per quando sarà pubblico il video ieri cioè venerdì dovrebbe uscire un mio articolo su Galimberti sul foglio quindi insomma sarà anzi sei dedicato dai 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 facciamo un po' di gossip non ce lo vuoi anticipare sì perché tanto esce esce il giorno prima che esca perché è uscito è uscito in realtà farò uscire anche un video qui sul canale la settimana prossima è uscito un'intervista di Galimberti con Marco Montemagno non so se lo conosci super guru della comunicazione italiana e via dicendo è video che ha fatto un sacco di sì sì ho visto è uno che si dà dei toni ed è ed è un altro prodotto della decadenza italiana ed è una chi e ne hanno parlato ne hanno parlato adesso chissà se questo signore mi sente chissà cosa dirà di me questo sfidato a me mi ha bloccato a me mi ha bloccato su Twitter solo perché l'ho criticato un paio di volte quindi ma mi pare un altro prodotto tipico di questa di questa subcultura italiana perché sono tutti dei grandi teorici della comunicazione ma sono un po' sensibili le palle uno con l'altro un po' per malosetto comunque lui ha fatto ma l'ho guardato un attimo ha fatto questa chiacchierata con Galimberti ha fatto un'intervista con Galimberti che è folle pura follia siamo un po' acidi sono venuto fuori delle cose siamo acidi sono venuto fuori delle cose veramente terrificanti e quindi io ci ho scritto un articolo cosa ha dichiarato il grande filosofo va beh per esempio ha dichiarato che la medicina non ha allungato la vita ma ha allungato la vecchiaia e che in fin dei conti morire a 60 anni va anche bene è il classico pensiero del filosofo perché non si è sparato colpo in bocca? Michele 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 dai fai il bravo siamo in orario protetto siamo in orario protetto ho fatto una domanda è una bella domanda se uno dice che è una bella domanda io sono molto a favore della coerenza visto che fai il grande uomo se spieghi che la medicina ha solo allungato la vecchiaia che è una cosa del genere che fa male se lui davvero lo ritiene e non è aria ai denti semplicemente per i patelli bourgeois e vendere qualche stronzata in più non ha che da essere coerente oppure ha detto lo volevo invitare volevo solo fargli una domanda come dire infatti no certo certo poi ha detto che noi siamo la generazione la generazione più debole della storia perché non ci procacciavo più il cibo nella foresta ma in realtà ci basta aprire il frigo e poi ha detto come ha sempre fatto lui lui ci procacciava esatto ecco vedi questo questo è questo pezzo di argomento nella sua così forma sciocca non è molto dissimile da quell'analisi che volevo invitarti a fare invece sul fatto che diventiamo sempre più viziati eh no ma ne parliamo no ma ti giuro che ne parliamo e c'è che ogni generazione quando guarda a quella che la segue dice porca locca che viziati che sono questi giovanotti di questo ne parliamo sicuramente magari la settimana prossima comunque ecco al netto al netto di deviazioni galimbertiane io non sto dicendo attenzione attenzione perché qua poi vorrei concludere anche il ragionamento sulla rend io non sto dicendo che la rend è l'unico strumento che abbiamo per combattere questa tendenza ma ci mancherebbe io dico che la rend almeno per me quando l'ho incontrata ha ha significato un un certo tipo di spinta emotiva è un'autrice che ti prende emotivamente non razionalmente e però secondo me per chi è vicino a un certo tipo di sensibilità può essere una una spinta interessante ad approfondire alcune questioni poi bisogna prenderla cum granosalis e discernere le puttanate che ha scritto da quelle invece decenti però a mio parere è una dei pochi è uno dei pochi autori una delle poche autrici del novecento ma anche autori che che sia riuscita a a creare un'epica anche emotivamente pregnante intorno a certi discorsi di cui a mio parere un po' di bisogno c'è perciò è meglio a mio parere diffonderla ripeto cum granosalis e quindi dire guarda leggitela però attento a queste queste cose rispetto a dire no in rend è una merda e basta secondo me non è una merda secondo me ha i suoi punti interessanti che possono essere una parte del puzzle della visione del mondo che una persona perché però non me ne è bica ha detto neanche uno e adesso dobbiamo finire perché altrimenti diventa che un tormentone con un boldrink e tirano non ho ancora capito quali siano i punti interessanti cioè continuano a capirlo io a chi ci ascolta dico francamente se avete tempo e vogliono leggere della buona letteratura la rende lasciatela proprio per ultimo in vita vostra a meno che non siete probabilmente dei lettori di professione che siccome devono poi sanno che non c'è dovuto la loro vita conosceranno Rick Dufer ci faranno un programma su youtube e un giorno siccome Rick Dufer menziona sempre la rende dovranno dire vabbè io vorrei parlare della rende non ho capito che ti piace allora la potete leggere ma solo in queste circostanze altrimenti leggete Proust che è molto decadente non ha nessuna queste affermazioni ma è infinitamente migliore vabbè ma sì ma certo allora anche David Foster Wallace ma sì ma indubbiamente però e non ti piace David? Foster Wallace assolutamente ah ti piace ok ok è tutta un'altra roba ma certo che è tutta un'altra roba infatti non riesco neanche a capire come riesca a piacerti uno e l'altro non lo so ma non importa su questo proprio non ci capiamo ecco su questo c'è una guest ad esistenziale chiaramente diversa sì 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 è Madame Boldrin e dobbiamo accettare Madame Boldrin guarda che guarda che il video potrebbe intitolarsi Madame Boldrin contro Madame no 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 è continuamente così in Polonia era così mi fanno fare non ti dico anche dei personaggi diciamo di un certo rilievo in quel paese che non avevano guardato con attenzione l'invito e si aspettavano la francese bellissimo e oggi a pranzo sono stato a un pranzo ufficiale qua per una cosa che l'istituto che mi ospita di cui sono advisory board vuole stabilire una cooperazione con l'università di Cambridge c'era un po' di signori e questi si aspettavano la solita signora francese e quindi quando sono arrivato mi hanno guardato con la faccia del tutto semplice sono Michelle Boldrin Michelle hai un tocco mediterraneo con la barba e quindi mi arriva bene Monsieur du Faire e Madame Boldrin giusto giusto mi sono francesizzato anch'io perciò io vi do il contro la controproposta dopo che Michele vi ha detto non leggete in rendi io vi dico leggetela però no non è giusto tu sei preparato c'avevi la citazione sei portato la copia io sono qua in un ufficetto abbandonato leggetela fatevi fatevi la vostra idea non ascoltate Madame Michelle una delle ragioni io tra l'altro l'avevo totalmente scontata mi ricordo di averla guardata anni ottanta in under da quando facevo il dottorato che c'aveva questo mio amico Bruce Kingman che era un cicagliano molto così eccitato che la leggeva allora gli avevi inocchiata anch'io perché volevo capire chi era questa signora famosa in un certo mondo negli Stati Uniti poi mi ero scordato che esisteva mi è ritornata con enorme antipatia perché a un certo punto della mia vita purtroppo in Italia ho avuto a che fare col mondo libertario autoproclamato liberale italiano che è pazzesco non farò i nomi ma sono delle persone francamente sgradevoli e che si riempivano continuamente la bocca di questa qua per cui credo che poverina nonostante i suoi enormi limiti intellettuali ai miei occhi sia diventato ancora peggio perché l'ho associata per questo certo certo ci sta ci sta quando sei la teorica è un po' come Evola hai capito come che c'ho Selin ecco no Evola è un disgraziato Selin cioè Selin nel momento in cui lo associ con un certo mondo fascistoide ti diventa antipatico se poi lo leggi indipendentemente da loro sì credo credo che ci sia questa cosa qua poi ripeto ripeto è un'autrice con dei limiti enormi però le cose buone che ha scritto non so a me mi hanno dato delle spinte mi hanno dato delle spinte senza farmi diventare un oltreomista fondamentalista dai cioè nel senso da questo punto da questo punto di vista non mi ha fatto troppo male questa volta proprio riconosciamo che esistono delle dimensioni eh ci sta pre-razionali che si può tentare di razionalizzare ma che sono pre-analitiche di reazione immagini sentimenti simboli narrative che sono lì sono lì o riconoscendole rimangono lì d'ora in poi d'ora in poi voi randomizzate tirate una randomizzate che bello che bello che bello non mi era mai venuto in mente che era la radice di tu randomize ci fosse randomize bello lancerò l'hashtag randomize bene 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 mike grazie per la chiacchierata grazie per la chiacchierata noi oggi si avremmo annoiato tutti per parlare di questa ma vabbè io e te ci siamo divertiti chi se ne frega degli altri virtù dell'egoismo mike ciao a tutti e non dimenticate che ciao carissimo non mi ricordo più non è tutto noia ciò che è in rend randomizza randomizza ciao ciao a tutti buon weekend ciao carissimo ciao caro